Ciao Goodlier, un bentornato da Carlo. Oggi imparerai a fare il dattilografo, infatti parleremo della tastiera. Partiamo un po' da lontano. Hai mai usato una macchina per scrivere? Se sei un giovincello penso proprio di no, anzi potresti nemmeno averla mai vista e sapere come si è fatta. Se invece è un po' di tempo che hai terminato le scuole, penso che l'avrai vista e addirittura usata come me. Per quel che mi riguarda è stata una grandissima emozione quando mio padre ne comprò una per casa. Ricordo ero un Olivetti, modello Rettra 35, come quella vista in figura precedente, e con una custodia in valigetta di color nero. Ancora adesso, quando ci penso, qualche brivido mi scivola dietro la schiena. Nel periodo della maturità, questa macchina mi ha fatto passare notti insonne a trascrivere la tesina per l'esame. Continui errori di digitazione, che poi erano corretti tramite un prototipo di quello che sarebbe diventato un bianchetto. Era un fogliettino di carta di qualche centimetro, su un cui lato era presente una patina di colore biancastro, il quale posizionato davanti ad una lettera da correggere e digitando nuovamente la lettera errata, questo bianchetto, questa patina bianca, andava a coprire l'errore, grazie alla pressione di un martelletto della macchina per scrivere. Ritraendo poi il tamburo, potevi scrivere nuovamente la lettera corretta, ma il danno era evidente, ormai era già fatto. Niente pagine perfette, quindi esenti d'errore, ma un grosso lavoro certosino, se però fatto con pazienza. Molte ore di lavoro per poche pagine. Ora, poche ore di lavoro per molte pagine a parità di velocità. Ma com'è possibile? Semplicemente perché noi fighetti oggi usiamo tastiera, mouse, computer, ed un tasto eccezionale, straordinario, innovativo come vuoi, e determinante come il catch, o per gli americani semplicemente delete. Ossia il tasto che cancella, il bianchetto è stato sostituito da un tasto. Capisci l'evoluzione cosa ha fatto? Soprattutto, capisci quanto tempo abbiamo dietro, se sei come me? Oppure quanto ne avrai davanti, se sei il giovincello? Beh, dopo questo balzo nostalgico, diciamo che, emozioni a parte, siamo andati straordinariamente bene con questo oggetto tecnologico. Ma cos'è una tastiera? È un dispositivo di input che permette di inserire manualmente dei dati all'interno del computer e controllare lo stesso in assenza di un dispositivo di montamento come il mouse. Nei PC è una periferica separata dal resto dell'hardware, mentre in altri dispositivi è incorporata, come avviene per computer portatili, lo smartphone. Si presenta come una tavoletta con dei tasti, in cui sono serigrafati dei caratteri, lettere, numeri, dei simboli, seguendo una configurazione standard. Il tipo di tastiera più utilizzata è denominato QWERTY, dalla sequenza dei primi sei tasti nell'angolo superiore sinistro. Un tasto, quando premuto, produce la sua rappresentazione grafica su un monitor del PC. Inoltre, premendo determinati tasti contemporaneamente, si generano altri caratteri o si avviano programmi e funzionalità varie. Infine, ne esistono alcuni dedicati per funzione rapide, che, una volta premuti, permettono di avviare programmi come lettore multimediale, programmi di posta elettronica, browser, eccetera. In alcune tastiere sono presenti anche dei tasti per comandare lo spegnimento, lo stand-by o l'accensione del PC. Come per il mouse, il design ormai è diventato di una creatività esasperata. Esistono, infatti, forme impensabili fino a qualche anno fa. Non solo, ma anche le caratteristiche tecniche e costruttive hanno risentito dell'evoluzione tecnologica. Siamo partiti con gli home computer, come Commodore, Atari, Sinclair e Apple, per citare alcuni, in cui la tastiera era un blocco unico con il resto dell'hardware. Poi arrivarono le prime tastiere periferiche nei personal computer, che si collegavano via cavo tramite l'interfaccia denominata PS2, passando poi per quelle con connessione USB. Ed infine, come per i mouse, la tecnologia senza fili ha invaso i dispositivi che ne permettevano l'applicazione. Nel frattempo, come ti dicevo, anche l'estetica si è trasformata in colori, forme, materiali e nella resistenza. Oggi, in ambito tastiere, puoi trovarne anche wireless con la possibilità di essere arrotolate perché fatte con materiale plastico. Naturalmente, come hai visto per il mouse, la tecnologia senza fili prevede la necessità di un'alimentazione dedicata. Quale scegliere, quindi? Il costo non sarà certo da parte discriminante nell'acquisto, in quanto una tastiera costa pochi euro. La scelta, quindi, può essere tranquillamente superficiale, a meno che tu non ricerchi qualche funzione speciale. A quel punto, non ti resterà che indagare e trovare quella che permetta di eseguire le funzioni da te richieste. Nel caso optassi per una senza fili, ricorda l'effetto collaterale delle batterie. Assicurate di averne sempre qualcuna di scorta, perché tanto lo sai che ti pianterà proprio nel momento meno aspettato, ad esempio quando stai per assicurarti un'asta su eBay all'ultimo rilancio. Ma poi, che ti preoccupi a fare? Fra poco non le utilizzeremo più. Nella prossima lezione parleremo di come il processore mostra il suo lavoro, il monitor. Ora, un grosso saluto, ciao da Carlo e alla prossima lezione. Grazie.